Una persona può avere diversi tipi di svantaggi, i quali possono essere temporanei, permanenti, più o meno gravi. Tutt'oggi si basano sul contributo, sull'aiuto di loro amici, familiari, parenti, però questi ultimi non sempre sono disponibili, quindi non hanno sempre la possibilità di portarli in giro con i loro mezzi. Abbiamo pensato a un servizio per la mobilità degli svantaggiati, quindi un servizio che permette da applicazione di prenotare un mezzo. La grande innovazione vuole essere l'aggiunta di una sharing economy tra le cooperative che hanno già dei mezzi e comunque una condivisione anche del mezzo, perché il mezzo non è come un taxi privato, ma se qualcun altro ha bisogno dello stesso mezzo viene caricato anche lui. Noi abbiamo pensato a tante persone, quindi magari non viene coperto tutto il viaggio, ma per servire più persone possibili il percorso si divide in tre parti, quindi considerando anche il mezzo di trasporto pubblico. E abbiamo pensato anche a una routine di viaggio, quindi magari più viaggi prenotati in una volta sola. Abbiamo pensato anche a una grande piattaforma come sviluppo futuro, una piattaforma in cui vengano integrati tanti servizi che possono essere sia questo SIMS, ma anche servizi di monitoraggio continuo, quindi qualcosa che dà informazioni riguardanti il nostro cliente che può essere una persona svantaggiata e li trasmette in tempo reale al tutore. Grazie a tutti.